Ciao, siamo Vale e Orly. Oggi vi faccio i cestini di melone con prosciutto crudo, a modo mio. Ingredienti per cestini di melone con prosciutto crudo. Un melone, un etto e venti di prosciutto crudo di Parma, un etto e venti di brie, due albicocche, aceto balsamico, 30 grammi di lamelle di mandorle, due o tre ciuffetti di basilico e pepe. Incomincio a tostare le mandorle. Ho tagliato le albicocche a fettine. Preparo i quadratini di brie. Ora preparo le palline di melone. Incomincio la preparazione del cestino. Mettiamo una spruzzatina, appena appena, di aceto balsamico sul formaggio e sulla frutta. Allora, comincio a inserire le palline. Un po' di frutta, qualche pezzettino di brie e un pochino di mandorle. Mettiamo dentro ancora un po' di palline di melone. Mettiamo una mezza passatina di pepe, appena appena. Che pezzettino di brie. E finiamo col prosciutto crudo. E poi finiamo con le scaglie di mandorle, così. Ora mettiamo un'altra spruzzatina di aceto balsamico, appena appena. Per completare, mettiamo su due ciuffetti di basilico. Questi sono i cestini di melone con prosciutto crudo, fatti a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciuti i cestini di melone con prosciutto crudo? Se vi sono piaciuti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima! Ciao!